Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento a 1 di Firenze in prunita e lo svincolo di imprunita grave inchianti. Sulla Fipili in direzione Mare per lavori ci sono rallentamenti tra Ponte dell'Este e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Restano chiuse per i danni del maltempo la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo Ammozzano e la statale 62 della Cisa a Pontremoli. La viabilità cittadina a Firenze per un muro crollato chiuso e il viuzzo di Gamberaia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!